Prima notizia, andiamo al giornale BBC. Wunderleyen promette di aumentare le deportazioni europee. Wunderleyen promette di aumentare le deportazioni, cioè i rispengimenti degli immigrati europei. Qui c'è la foto di Wunderleyen con la Meloni. Meloni con il solito sorriso simpatico e Wunderleyen con il solito sguardo ipocrita. Sai, riconosci le persone, gli spiriti delle persone dagli occhi. Vedi, qui c'è Meloni, che il sguardo è, diciamo, sincero all'italiana. E qui c'è la Wunderleyen fredda, tipo nazista, diciamo. Come gli occhi sono la finestra dell'anima. Finito i giornali? Questo sì, del BBC. Leggo gli altri? Ma sono... no, non c'è niente di importante. C'è Guardian. Bloomberg dice che Meloni spinge i leader europei ad essere più duri nelle regole dell'immigrazione. Ma c'è un giro, centralmente giro di soldi e di politica, perché le industrie europee vogliono gli immigrati a tutti i costi, perché è così che possono cominciare ad assumere immigrati a prezzo di niente e fare concorrenza alla Cina. E quindi cosa cambierà adesso in Europa? Cambierà niente. Niente? Sì, adesso già ci sono un po'... Cioè, come è andato ultimamente, andrà ancora. Stanno tutti facendo fin... Beh, stanno esprimendo il loro vero spirito, il loro vero spirito di... Cioè, non amano gli immigrati. Per loro, i immigrati sono solo dei pezzenti, dei burattini da usare a poco prezzo. Loro ci hanno... C'è questa gente che vanno a letto la sera pensando ai soldi, pensando alle loro manovre. I immigrati sono solo pedine. Ma pensi ci sarà meno terrorismo, meno crimine? Ma io credo che tutto aumenterà, quello. Oh. Ormai hanno capito che la loro politica ha fatto un fiasco totale e, come noi dicevamo, e altri insieme a noi, ma dieci anni fa lo dicevamo, che questi immigrati vogliono usare come pedine, ma questi qui sono pedine viventi. Devi anche dargli un alloggio del cibo, dei salari, se hanno i loro diritti. Loro credono di poterlo usare solamente come pedine, come robot, ma in realtà... In realtà, quando giochi con gli esseri umani, perdi sempre. La storia l'ha sempre insegnato. Quando hanno... Come Stalin, che traslocava milioni di persone da una parte dell'Unione Sovietica a quell'altra. Insomma, sono politici schizofrenici in un mondo senza Dio, senza bussola. Quindi, prima facevano avanti tutta per invitare gli immigrati. Adesso, forza a respingerli. Povera gente, immigrati, strumentalizzati. Dio li ama, evangelizzateli, fratelli. Ovviamente, erano sempre gli industriali a spingere l'immigrazione selvaggia. E così, gli industriali, loro vorrebbero continuare. E allora, se non che le destre adesso, però, c'è la reazione. Cioè, le sinistre sono sotto il controllo dell'anticristo, lo spirito dell'anticristo. Tutte le sinistre, gli ex marxisti, gli ex comunisti, che adesso si chiamano democratici. Adesso la parola d'ordine è democrazia, perché fumo negli occhi, insomma. E adesso, come reazione a questo, le destre stanno avanzando. Appunto, la Meloni ed altri in Europa. Stanno avanzando ovunque con la loro politica. Cioè, vediamo in Olanda che stanno vincendo i partiti che sono contro l'immigrazione. Vediamo in Danimarca, vediamo in Svezia. Vediamo dappertutto. E quindi, allora, le sinistre, le sinistre, loro fanno finta adesso di essere contro l'immigrazione, ma non lo sono. Loro vogliono usarle come burattini. Per loro, adesso, a Bruxelles l'importante è proteggere le poltrone politiche, ecco. Quindi, la von der Leyen fa finta di essere contro l'immigrazione e di proteggere la poltrona politica. E adesso, indietro tutto, tutto a forza indietro degli immigrati. Tanto che ora, a denti stretti, ci devono promettere più deportazioni. Guarda, qui c'è un giornale di Zelensky. Dice, Ucraina è il piano per la vittoria. Il piano di Zelensky per la vittoria, lui l'ha chiamato il piano per la vittoria, non decolla. Quindi cosa succede adesso? Questo è il giornale. E io direi che, cioè, è andato a fare degli incontri, lui è andato in America, ha girato l'Europa, perché lui si presenta con un piano della vittoria. Cioè, siccome sta perdendo tutte le parti, e allora cosa ha fatto? Ha preparato un piano della vittoria. E il piano è molto semplice. L'Occidente ci deve dare più soldi, più armamenti, permetterci di bombardare la Russia come vogliamo. E poi, dulcis in fundo, questa settimana Zelensky è venuto fuori con un'altra nuova rivelazione. 100% stile nazista. Ha detto così che, adesso le cose sono due. Ha detto, ha detto ufficiale, ha detto, o entriamo nella NATO, o altrimenti bombardiamo, facciamo la guerra alla Russia con le bombe nucleari. Oh no, e come faranno con le bombe nucleari? E questo ce lo dovrà dire il prossimo piano della vittoria. Oh ma... E loro è andato con questa geniale rivelazione. A questo il piano? O entriamo nella NATO, perché la NATO ha già le armi nucleari, quindi non ha bisogno di usare le proprie che non ha. O entriamo nella NATO, oppure faremo guerra nucleare contro la Russia. Non ha spiegato come farà perché le bombe nucleari non ce le ha. Però naturalmente, adesso Putin gli ha risposto e gli ha detto, attualmente nel mondo non ci vuole molto a fare una bomba atomica. Però il signor Zelensky sta giocando col fuoco solamente a dirlo questo. E allora la reazione che ha avuto dalla NATO a queste proposte è stato un gelo polare. Cioè nessuno si è messo a gridare per la contentezza. Cioè questo vuole fare praticamente, vuole fare le sue vendette contro la Russia a prezzo dell'Occidente. L'Occidente deve dare soldi, armamenti, forse anche bombe atomiche. Quindi questa è la situazione dei pazzi da circa queste.